E rimanendo in qualche modo sempre nella scuola, l'altro giorno ho incontrato dei ragazzi, un gruppetto di miei ex alunni che frequentano l'università, le ho un po' presi in giro, dico ecco siete venuti a trovarmi lì al liceo perché non state facendo lezioni, state perdendo del tempo, mi hanno un po' spiegato, ma si figuri, noi siamo qui perché purtroppo talvolta spesso anche gli insegnanti dell'università sono assenteisti, adesso mi fa piacere che si occupino anche i giornali di questo problema, e questi ragazzi dicevano lei, in cinque anni che siamo stati a scuola è sempre stato presente, ho avuto fortuna, non mi sono mai ammalato, siamo andati all'università, abbiamo alcuni professori che li conosciamo più in fotografia, sui siti internet che per le elezioni che svolgono, ma la cosa ancora più drammatica mi diceva è che pare che adesso, cioè si voglia in sostanza poi andando bene a vedere, tanti di queste sciopere e proteste sono proprio per difendere questi baroni, per permettere loro di continuare a fare gli assenteisti, a rubare gli stipendi e soprattutto a distribuirsi le cattedre seguite, penso, mi auguro, se non lo fate seguitelo sul secolo, questi servizi sulle baronie, sulle parentele che ci sono tra i vari professori, tra gli alunni che frequentano i corsi, mi dicevano questi ragazzi che ci sono dei corsi che hanno 3-4 alunni, e hanno il costo come uno che ha 300 iscritti, ecco, allora, questi ragazzi sono svegli, sono intelligenti, non si fanno strumentalizzare, capiscono i punti dove è giusto domandare degli interventi, ma capiscono anche che altre richieste sono soltanto per coprire degli interessi privati, delle baronie che hanno dei fortissimi agganci politici e quindi prima di morire vogliono resistere ad oltranza. Mi sembra che il rettore sia una persona seria, abbia deciso proprio di sfoltire già di suo, senza aspettare che da Roma ci si sia accorti finalmente di questi scandali.